ben trovati davide il critico oggi ci avviciniamo passo passo ad una sfida secondo me delicata poi è chiaro è chiaro che bologna salernitana vede affrontarsi la squadra più in condizione del campionato e quella meno in forma del campionato perché la salernitana non prendiamoci in giro è già in serie b è già retrocessa e sta pensando come organizzare la rosa l'anno prossimo e con quale allenatore o con quale dirigenza si è arrivato con l'antuono a cui auguro le migliori fortune perché comunque salerno è una piazza che secondo me merita di vedere del bel calcio a bologna arriveranno un sacco di tifosi appunto della salernitana questo vuol dire che c'è grande attaccamento grande passione però ecco per quanto riguarda il campo secondo me non sarà una gara così facile ma vi mentirei vi mentirei se non pensassi di poterla vincere al 99 per cento ecco vi mentirei perché abbiamo visto i valori in campo molto positivi per noi molto negativi per loro su chi saranno i titolari non ne ho la più palli di idea poi a fine video magari ci arriviamo la cosa importante è che da questa sosta per le nazionali non sia fatto male nessuno nessuno per fortuna non si è fatto male nessuno anzi abbiamo recuperato sia zierze che carson quindi io ho visto questa pausa delle nazionali molto 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 positiva certo avrei voluto giocare anche il weekend scorso perché adesso il bologna non vedo l'ora che giochi perché gioca talmente bene che io non vedo l'ora di poterlo ammirare dal vivo però dopo dopo il diluvio di empoli anche personalmente ecco più io che gli altri forse avevo bisogno di una sosta perché ho preso tante di quell'acqua che per rimettermi in sesto benedetta sosta per le nazionali benedetta non so per i giocatori per il sottoscritto benedetta mi mancato il calcio sicuro che mi è mancato però anche recuperare un po dopo l'acquazzone non è andata male per niente zierze titolare zierze non titolare io questo lo farei decidere chiaramente a tiago motta e soprattutto ai medici è ovvio che se una parte di me dice non voglio rischiarlo perché in futuro ci saranno gare fondamentali per il destino del bologna e per questa impresa che potrebbe essere storica appunto per la nostra società d'altro canto bisognerebbe mettere subito la gara nei binari giusti quindi una parte di me dice sì zierze aspettiamo mettiamoli in campo dall'inizio magari col frosinone l'altra se sta bene ragazzi è giusto che giochi essendo lui titolare non dovesse essere titolare buon zierze io mi aspetto di vedere più odgard rispetto a castro anche perché castro lo vedo più utile magari quando c'è più spazio e non mi aspetto una salernitana che viene a bologna proprio giocando con i giocatori molto larghi uno dall'altro arieggiando la loro metà campo no ecco mi immagino più una salernitana compatta chiusa col pullman davanti alla porta giustamente e per scardinare questa difesa forse sarà più utile un odgard che ha più fisico e che a empoli mi ha fatto vedere anche un'ottima tecnica un'ottima tecnica per gli 11 titolari ragazzi mi aspetto in porta skorupski centrale beuke macchia non è andato da nessuna parte con la nazionale gli fianco a lui mi aspetto calafiori più che lukumi sugli esterni torna posch dall'altra parte christiansen poi in mezzo al campo freuler e ferguson fai fatica a toglierli io credo sia impossibile toglierli e poi bisognerà vedere tra ebisher tra el azuzzi poi chissà se vedremo anche moro un giocatore un po finito fuori dai radar ma che a me onestamente piace veramente tanto forse ebisher è la soluzione più indicata soprattutto per l'inizio e davanti gli esterni se le makers lo vedo favorito e poi vediamo un dojo come come è tornato e come lo vede tiago motta negli allenamenti davanti ecco mi aspetto più un odgard dall'inizio rispetto a zirza e ora che vi ho dato la formazione secondo me prendete tutti i giocatori e fate finta che saranno in panchina dall'inizio alla fine della gara e forse nemmeno entreranno dopo perché chi ama il bologna chi segue il bologna sa che la cosa più complessa per noi non è tanto indovinare il risultato fisso ma quanto quali saranno gli undici titolari questa è la cosa più difficile domani ci sarà la conferenza stampa di tiago merlino io domani sarò in spiaggia in romagna tranquillo a godermi l'acquazzone che è previsto da alcuni meteo ma non da tutti e io tendo a credere a chi non dà pioggia sempre proprio per principio sempre però aspettiamo questa gara senza sottovalutarla questo è il mio più grande desiderio allo stadio saremo tantissimi tantissimi ragazzi sold out in casa con la salernitana il weekend di pasqua ma quanta carica c'è in questa città quanto amore c'è per questo bologna in questo periodo un amore sconfinato quindi io spero che oltre alla presenza fisica ci sia anche un buon sostegno da parte di tutti che possano cantare dall'inizio alla fine qualsiasi cosa accada perché in europa in champions in quello che sarà ci andremo tutti insieme perché oggi come mai io vedo una città spingere un gruppo di ragazzi veramente eccezionale quindi ragazzi carichi anche sugli spalti non è una partita scontata non va sottovalutato all'avversario io ve l'ho detto a bfc ve l'ho detto anche negli altri video temo di più la salernitana in casa rispetto a un empoli in trasferta non mi chiedete perché perché chiaramente se guardiamo le statistiche quella che ho appena detto è un'assurdità non me lo chiedete il perché però io la salernitana non voglio assolutamente sottovalutarla perché mancano nove gare e ogni vittoria è fondamentale fondamentale poi ci sono delle partite che valgono un po di più perché roma bologna vale di più ovviamente se vinci batti una diretta concorrente se perdi perdi contro una diretta concorrente in più c'è anche gli scontri diretti che vanno valutati quindi ovvio che roma bologna abbia un valore diverso rispetto a bologna salernitana ma va rispettato l'avversario mi raccomando sugli spalti ci vorrà un tifo e un amore verso il nostro bologna sconfinato manca poco all'arrivo e io voglio arrivare più avanti possibile ti ricordo di iscriverti al canale mettere mi piace al video di andare su instagram a seguire la pagina davide il critico mettimi qual è per te la formazione iniziale del bologna in casa contro la salernitana forza bologna grazie a tutti grazie a tutti